Ho visto ieri en passant le dichiarazioni di Nadia Toffa sul cancro. Sono contento per lei che lo stia superando, auguro a tutti di superarlo. Però ho storto il naso davanti alle affermazioni riportate dai giornali. Il cancro è un dono, tutti i cancri sono uguali, se l'ho sconfitto io lo può sconfiggere chiunque. Ho storto il naso e sono andato avanti. Però un paio di comunicazioni con amici, soprattutto con un'amica che ha perso la mamma non molto tempo fa, mi ha fatto pensare che è il caso di fare questa piccola risposta al volo. No cara Nadia, con tutto il rispetto per la tua lotta e proprio per rispetto a chi lotta e chi lottando non ce l'ha fatta, no, il cancro non è un dono e non tutti i cancri sono uguali. Lo dice la AERC, l'Associazione Italiana di Ricerca sul Cancro, dice che i tumori non sono tutti uguali e non sono uguali per tutti. Ogni persona che viene colpita da un tumore viene colpita non da un dono ma da una disgrazia, che può essere lieve o grande, ci sono i tumori benigni. E ci sono tumori che, per quanto uno abbia la buona volontà di lottare, abbia anche le risorse interiori di lottare, sono così aggressivi fisicamente che la fanno fuori. Soffrire un male ci deve rendere più sensibili, più compassionevoli. Il patire e il compatire devono camminare di pari passo e non possiamo con la nostra grinta, magari anche con la nostra fortuna, e quando dico fortuna non dico solo il fato. La fortuna può essere avere una buona equip di medici che ti segue, la fortuna può essere avere anche una famiglia che si prende cura di te, la fortuna, ripeto sempre in modo inadeguato l'espressione, la coincidenza o la dioincidenza può essere quella di cogliere un tumore allo stato iniziale. Ecco, le fortune in senso largo possono essere tante e non tutti ce l'hanno. Nella mia famiglia diverse persone sono morte perché hanno avuto dei tumori silenti, oppure persone che non potevano permettersi certe cure, persone che sono state trascurate dall'ambito medico, oppure la diagnostica non ha colto la malattia. Mi ricordo di mio zio, morto soltanto a 50 anni, pensavano che avesse un'ernia al disco e soltanto quando la situazione era diventata intollerabile capirono che dietro all'ernia c'era un cancro. Comunque il mio interesse non era quello di entrare nel dibattito gossiparo, ma neanche quello medico perché non mi compete. Vorrei sottolineare il fatto che un male non è mai un dono. Un male è un male, come risposero alcune persone sul web. Il cancro per me è stato una tragedia, il cancro per me è stato un inferno. Ho rischiato di non essere presente alla nascita del mio nipote, ho rischiato di non essere presente alla laurea di mia figlia, il cancro mi ha distrutto i piani. Capisco quindi l'intento di essere motivatrici e motivatori, ma bisogna essere anche attenti e sensibili. E qua vorrei sottolineare un fatto perché qualcuno potrebbe dire Alt, ma tu che sei cattolico, voi cattolici, il male lo sapete gestire in un modo, c'è la croce, bla 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 bla, tutte queste cose che vengono dette. E poi ti puntano la croce e dicono ecco voi canonizzate il male, il dolore. No, Alt, innanzitutto noi non canonizziamo il dolore, canonizziamo l'amore che si è espresso anche nel dolore. Si è espresso nonostante la persecuzione. Ma la croce in sé non è un bene. La croce è una ingiustizia, è la più grande ingiustizia. Colui che è l'amore in persona è stato rifiutato. Questa è una grande ingiustizia. Santi come San Francesco d'Assisi, come Santa Maria Maddalena De Pazzi, urlavano, gridavano, l'amore non è amato, l'amore non è amato. Quindi altro che una canonizzazione del dolore. Gesù stesso non ha voluto il dolore della croce in sé e per sé. Nel Gezzemani Gesù prega Padre allontana da me questo calice, ma non la mia ma la tua volontà. Ecco, quindi c'è questo contrasto che ci lascia umani, ci rende umani. Gesù non era un patito di dolore, sarebbe stato patetico e malato. Gesù voleva donarsi. E l'espressione di questo dono la vediamo in modo anticipato nella lavanda dei piedi e nell'Eucaristia, ma questo dono poteva benissimo in un mondo ideale essere un dono d'amore, senza l'ingiustizia, senza che l'uomo infliggesse a Cristo un male. Quindi per tornare al nostro argomento, il male in sé non è un dono, il male in sé non ha senso. Tu puoi trasformare questo male in dono, tu puoi trasformare questo non senso in qualcosa di sensato, ma in sé rimane come una cosa non necessaria, non fondamentale. Quindi non canonizziamo il dolore, canonizziamo le persone capaci di farsi dono nell'amore attraverso il dolore. Qualche giorno fa è stata aperta la causa di beatificazione di Chiara Corbella e penso che il nesso sia chiaro guardando alla vita di una persona che al suo figlio dice io non muoio per te, io do la vita per te. Ecco, il male in sé è un male patito, un male che uno vorrebbe superare. Infine coincide questo periodo con l'uscita in libreria di un libro che ho avuto modo di accompagnare. Non è un libro mio, quindi non è una pubblicità per me e tra l'altro la persona che l'ha curato, Franca Muroni, la sposa di Pierpaolo Conti, devolverà tutto il ricavato in beneficenza. Il libro si intitola Un ponte arcobaleno tra i prati e il cielo a punti di eternità. Penso che un approccio così delicato, così sensibile, così umile alla questione del dolore sia una risposta migliore. Il Signore vi dia pace.